bella a tutti ragazzi e benvenuti sull'Italia di Cine e oggi sono su LivoSid, mi dico horror, ovviamente, e il momento di amica salata aveva un bambino che si vede a me, bello no? Sì, e poi guardatevi, sicuro è la webcam, ciao, e poi lì ho cambiato il mio, non ne ho capito, ok, possiamo iniziare, guardate ragazzi il mio figlio del dito, ma andremo in modalità facile, ok raga, ho spostato la facecam al centro, purtroppo mi vedete solo da sto lato perché altrimenti mi si vede il dito se gioco, e quindi possiamo iniziare, ok raga, ve lo faccio in facile così almeno faccio un po' di sfida, che faccio sempre raga, le missioni di Erickson ve le porterò nei prossimi giorni, quindi tranquilli, quindi po' tranquille ok raga, possiamo partire ok, eccoci qua, così potete vedere anche qua, come mi spavento, no raga, mi lagga, non io voglio veramente, adesso raga, un attimo solo che, prima questo, così almeno non io mi lagga, perfetto, ok ecco, barlasso, va bene ragazzi, ho la adeggi mince punto, i Bull Kidd, sta davanti e mi possano amumerzare, bull Kidd, per favore, non mi ammun rappelle, Forza di shotgun Servevo di trovare la roba Laga, lagga Io ho lagga E poi non mi porti il lag Laga un altro Dai, lag, fai il tipo Grazie, Evolkit Sono un po' spaventato, eh Lo ammetto Ora ragazzi vi sposto un attimo la webcam Un pochino, un po' più Lo sposto qui, va A sinistra, va Scusi più a sinistra Volevo fare a togliere lo quadrato Dove essere il mio gioco ma Anzi sai che cosa? Prendolo un po' più Lo metto Qui Ho deciso Metto qua Trovare qualcosa Una chiave di una stanza Tanto andiamo a giocare il veleno Perché dobbiamo avvelenare Evil Kid Evil Kid non mi ammazzare Kid Kid non mi ammazzare Io c'ho paura ragazzi Mi spettivo il Kid dal luna Kid 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 Nooo Che morirò E non potrò farvi vedere Tutto il gioco Ecco perché Fantasso Ma io gioco solo a quella Ok ragazzi Stavolta serie Andiamo Ero tanti giorni Che non facevo Quei video Perché Ero troppo impegnato Sti giorni Quindi non ho avuto Tempo No Non laggare Il gioco Ti prendo Niente Gioco Oh E qui Save Evil Kid No Mi sono chiuso Dai vieni qua Kid Vieni qua Kid Kid Grazie Kid Mi sa Che proprio Fallirò Cioè Proprio Fallirò Comunque Se volete Altri video Con la webcam Mettete Il mi piace E commentate Qua sotto Se li volete Ah raga Vi dico Se volete Una serie Di Minecraft Arriviamo Poi più avanti Vi porterò Anche una serie Di Minecraft Se volete E lì Cominceremo Già A divertirci Quando avrò I soldi Per comprarlo Lo comprerò Insieme a voi Perché se lo compro Sui top Sono stupendo Mi danno La licenza E quindi No Gioco Non laggare Ecco perché Cosa sta succedendo Aiuto L'alto 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 Che schifo Scusate Un attimo E raga Vi volevo tagliare Sarà Successo Se è successo Ah Toggi Scusate raga Volevo tagliarmi Cosa del giorno Che C'è Noiosissimo Andiamo Ok raga Proviamo Già che morirò Di nuovo So che Ti rili Pro Io devo rili No stavolta Non mi prendi Però puoi scordare Bambino Cattivo Vedrà Non ce l'ho fatto Vabbè Non mi piace Il filmato finale Poi chiudo il video Grazie My kid Bene ragazzi Siamo morti Se il video Vi è piaciuto Lasciate un commento Mi piace Anche se ho Quellato ben Cinque volte Perché 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 la gava Ora Se volete Una serie Su minecraft Lasciate Nel prossimo Video Ciao Ciao Ciao